buongiorno a tutti ragazzi allora io ho fatto una presentazione a far capire un pochino cosa fa l'oculista insomma vita da oculista e questo è il mio curriculum o mi sono specializzato alla sapienza qui a roma vengo dal piceno da scoli appunto e questa appunto è una foto che ho voluto mettere il primo giorno di specializzazione con un mio amico col quale insomma ci siamo divertiti anche a pubblicare tanto negli anni di specializzazione tutti i giorni l'oculista per alcuni potrebbe fare una vita banale controllare soltanto occhi ma in realtà c'è tanto altro qui per esempio ho messo qualche immagine questa è una lampada a fessura ora penso che chi è rimasto magari sia un minimo interessato a oculistica e forse già conosce questi strumenti però questa qua è la lampada a fessura biomicroscopio che permette appunto di valutare il segmento anteriore dell'occhio questo caschetto buffo è lo schepens per vedere la retina e più o meno ci vogliono circa quattro anni di media più o meno per imparare a vedere il fondo oculare questo lung test che permette di valutare la stereopsi soprattutto praticato negli strabismi o nei bambini per capire se i due occhi lavorano insieme e poi esiste tutta la grandissima parte di diagnostica OCT è come fare tra virgolette una risonanza magnetica della retina così lo spiego ai pazienti e così mi riescono a capire permette di fare una stratificazione in vivo della retina questa è una florangiografia col mezzo di contrasto venerdì ho dovuto fare una e mi sono sporcato tutto con la floresceina e rimani giallo per giorni e questa invece è un'ecografia che permette di valutare ad esempio i distacchi di retina emovitri occhio che non permette di vedere il fondo paziente con cataratte ipermature insomma c'è tutto l'ambito delle ecografie che pure io eseguo mi sono fatto un corso durante la specializzazione è una branca insomma che permette di fare tanto tutti i giorni più o meno si fanno queste cose questa è una foto di quando sono andato in India a operare ovviamente mascherina abbassata cosa che non va mai fatta in futuro se diventate chirurghi quando andate congressi non mettete queste foto qua questo è l'unico consiglio che vi posso dare oggi perché capita che va ai congressi e ci sono i colleghi che operano con la mascherina abbassata anche con la bocca scoperta non si fa è bruttissimo ovviamente in India c'erano i pazienti che in sala d'attesa stavano per le scale fuori li sterilizzavamo con la carta dei guanti lo scotch era proprio lo scotch di plastica per bendarli quindi dal punto di vista igienico sanitario la situazione era molto precaria e generalmente l'oculista che fa un oculista che opera perché se poi vuoi fare l'oculista e non vuoi operare puoi anche non andare in sala operatoria quella durante un intervento di cataratta puoi anche stare al tuo studio privato a fare gli occhiali se te ne va vedi i fondi oculari ma generalmente se apri un ambulatorio privato cosa che fanno molti oculisti ma non tutti rispondi a whatsapp al telefono perché ormai la diagnosi viene fatta anche tramite telefono sono diventato bravissimo dal covid la chirurgia però è bellissima cioè se fai l'oculista devi fare il chirurgo almeno si dice poi non necessario però avere un approccio chirurgico ti fa capire bene come sono fatti gli occhi cioè se ad un oculista io vi consiglio di andare dal vostro oculista che opera anche perché almeno capisce il piano a piano b e piano c di un problema la chirurgia è vastissima l'occhio è una palletta due centimetri e mezzo però c'è il segmento anteriore e quindi c'è la chirurgia della cornea la chirurgia del glaucoma gli strabismi la chirurgia palpebrale che comunque va sempre più verso diciamo la chirurgia plastica però interventi fatti bene con terapie adeguate nel posto operatorio vedo che l'oculista è un pochino più preparato da questo punto di vista perché riesce a vedere anche la cornea c'è anche tutte le complicanze dovute a un intervento simile e poi c'è il mondo della retina bellissima questa qua è un intervento così schemino della vitrectomia e queste qua sono le puzzette di retina di membrana limitante interna e membrane piretiniche che ho dovuto studiare per la tesi di laurea che mi appiopparono bellissima comunque andavo in sala operatoria a prelevare questi campioni ci mettevo un'ora e mezza con i mezzi a Roma andare in questo ospedale frequentavo la sala operatoria un'ora e mezza per tornare ai laboratori laboratori poi ci persero alcuni campioni insomma per andare a studiare la membrana epiretinica in un caso in casi di pager maculare vabbè patologia della macula e questo per far capire che l'oculistica non è soltanto fare occhiali l'attività ambulatoriale però è fondamentale bisogna saper vedere gli occhi e dall'attività ambulatoriale si può anche arrivare facilmente alle pubblicazioni se vi piace fare ricerca oculistica è il posto perfetto soprattutto in ambiente universitario ovviamente questo ad esempio è un caso di un paziente che si presenta per un po' di abbassamento visivo bilaterale paziente nord africano al pronto soccorso e andiamo a vedere il paziente aveva appunto questa lesione al fondo oculare lesione all'OCT a me e all'altro collega mio abbiamo pensato di farci una bella pubblicazione di granuloma intraretinico perché non esisteva nulla a riguardo poi con la terapia sistemica è passato tutto il paziente è tornato a vedere decentemente e questo invece pure ma perché non andiamo a fare un confronto fra i quadri ecografici e quegli OCT delle metastasi corredeali questo è un quadro rarissimo di metastasi bilaterale poverino paziente con tre pazienti questi qua sono due studi che abbiamo fatto con pochi numeri ma comunque erano più descrittivi che in altro che andava a valutare appunto il fluido come si dispone sotto la retina in caso di metastasi pazienti purtroppo che sono sopravvissuti pochi mesi perché ovviamente avevano già metastasi cerebrali ambiente pure bellissimo è quello del pronto soccorso dove appunto abbiamo i più disparati casi clinici qua ad esempio abbiamo un occhio rosso che può essere ridotto questa qua è un uveite una patologia della coroide che nessuno si è mai filato in generale mentre si parla di maculopatie nei talk show però quando lei ebbe Berlusconi che saltò un comizio a Napoli si parlò di uveiti in Italia per la prima volta in televisione questa è una dendritica una patologia erpetica della cornea questo è un attacco acuto di glaucoma questo paziente è ben abbottigliata di una Ceres in testa che gli spaccò anche mezza palpebra questo invece bellissimo unico caso trovato in letteratura che questo paziente stava a pescare gli è entrato l'amo dalla vabbè qualcuno un po' vabbè non guardate se qualcuno non piace e gli entrò però dall'imbus quindi c'era l'amo che sporgeva in camera anteriore senza penetrare la cornea e quindi telefonò all'amico pescatore a Otranto per chiedere come glielo potevo togliere perché questi qua sono doppiamente hanno double ended cioè hanno anche per non far scappare il pesce c'è anche un amo interno quindi come lo sfiliamo ovviamente allarghi e basta e questo è un quadro di distacco di retina questa è la rottura di retina e ci sono alcuni oculisti che fanno segmento posteriore quelli che fanno segmento anteriore e magari chi fa cornea non vede mai un fondo oculare per esempio quindi tanti campi i pro e contro quadri clinici affascinanti questa è una cataratta traumatica pure in antrocchio aperto questa è una coroidite multifocale patologia della coroide rarissima io ho frequentato un centro qui al polinico umberto primo dove si trattava soprattutto di uveiti che comunque coprono dal segmento anteriore a quello posteriore e quindi mi è andata bene ne ho visti tanti di questi casi poi in dieci anni che sono uscito dall'università non ne ho mai visto uno non ho visto uno in realtà a studio privato è bello perché puoi fare anche pediatrico e poi puoi conoscere tanti amici ma quello fondamentalmente in ognuna delle specializzazioni ho voluto mettere sta foto tanto per perché ricordare il percorso di studi i contro sono tanti se fai l'oculista molto spesso c'è uno studio privato la richiesta è tanta ti possono far gola i soldi io non so se li farò perché non riesco a chiedere i soldi alla gente ho sempre problemi faccio sconti a tutti giulia conferma e però bisogna stare attenti capire quanto tempo dedicare alla famiglia e soprattutto se lavori in ambiente ospedaliero e c'ho amici che lavorano in momento ospedaliero sotto numero 36 ore più l'attività privata può andare in burnout e cioè non può essere faticoso bisogna sempre trovare una via di mezzo giustamente ma penso che in quello in ognuna delle specializzazioni le possibilità lavorative sono vastissime ovviamente c'è il pubblico c'è il privato un misto quello che faccio io l'accreditato col sistema sanitario nazionale cioè le visite sono a pagamento però la chirurgia è tutta in pubblico i pazienti vengono c'è una lista d'attesa di 4 o 6 mesi o scegliamo a seconda se ci sono le vacanze di mezzo e quindi il paziente si opera con l'impegnativa e paga soltanto 30 euro l'ultima visita per rifare gli occhiali togliere il punticino quando viene messo poi c'è lo studio questo qui è il primo studio dove visitavo ad Ascoli dove ancora continuo ad andare e ora non visito più qua però ovviamente lo studio privato può darti tante soddisfazioni lo apri lo chiudi fai come vuoi tu c'ho colleghi che fanno soltanto diagnostica c'è una collega che fa soltanto ecografie ed è bravissima a fare ecografie su Roma e fa soltanto quello quindi da un punto di vista clinico hai veramente tantissime possibilità c'è un altro amico che fa soltanto OCT perché la richiesta è tanta e la diagnostica è diventata fondamentale per la diagnosi e per la cura e poi ovviamente si può andare in missione e ovviamente è un percorso che probabilmente un chirurgo deve fare perché ti cambia insomma la vita dove andare a fare la specializzazione non c'ho da darvi un consiglio fondamentalmente perché ci sono tutti pro e contro dalla città grande città piccola università la cosa che vi posso dire qui ho messo tre realtà molto importanti in italia il sacco dove sono stato un mese il secondo anno di specializzazione imparare maculopatie facevamo 130 punture di intravitreali al giorno per la maculopatia un centro di riferimento nazionale il gemelli molto richiesto fanno anche operare i giovani specializzanti quindi esci già che hai fatto più o meno 100 cataratte da primo operatore e poi c'è anche la d'annunzio di chiedi quindi generalmente grandi realtà c'è una vasta casistica grandi città lo stesso però anche piccoli centri meno conosciuti possono essere molto frequentati ad esempio questo ospedale questa università con mastro pasqua che è il primario copre tutto l'adriatico io da ascoli ho pazienti che se vogliono un buon centro vanno lì quindi non è detto che magari uno dice oddio sono finito qui vado non vado dovunque si va insomma si trova sicuramente un buon ambiente poi ovviamente c'è possibile c'è possibilità di farsi esperienze fuori quindi un periodo all'estero straconsigliato oppure un periodo in italia da qualche altra parte e dal punto di vista della formazione cosa è fondamentale che deve saper fare l'oculista io ho ragazzi a volte che mi parlano delle sindrome più rare ma non sanno quando la cataratta va operata oppure no la cataratta è l'80 per cento della chirurgia oculistica oppure non sanno fare una capsulotomia io mi imboscavo tra virgolette i pazienti dell'ambulatorio generale avevo trovato un uno strutturato che ci faceva fare a noi le capsulotomie perché il mio diretto superiore non me le faceva fare perché le voleva fare lui e quindi avevo trovato chi me le faceva fare quindi piccoli sotterfugi senza infrangere le regole ti permettono comunque di crescere sono uscito dalla specializzazione che sapevo fare le capsulotomie con il laser un videogioco più o meno ti avvicini con il laser becchi la capsula la rompi e pulisci opacizzazioni secondarie all'intervento di cataratta ma la cosa principale è lo studio perché poi cresci diventi grande e tra specialisti 40 50 anni chi continua a studiare c'ha una marcia in più quindi è fondamentale vivere su pubmed oppure andare anche congressi che ti permettono insomma o di fare esperienze personali varie conoscere colleghi al gare i propri orizzonti ma soprattutto andarsi a formare e magari andare a cercare gli articoli che ti sei perso che ti possono aiutare a crescere e ormai c'è ai tempi nostri per cercare un congresso ti dovevi informare con gli informatori adesso vai su internet trovi tutti i congressi possibili immaginabili di lavoro ce n'è tantissimo sono dato scritto concorsi ora io non voglio fare più concorsi li ho fatti ma l'ultimo voglio rimanere nel lazio e a roma soprattutto e quindi l'ultimo concorso quattro anni fa eravamo 150 per due posti io nella clinica dove sto opero opero tanto faccio retina chirurgica retina medica non voglio più tornare nel sistema sanitario nazionale dove a volte mancano proprio gli strumenti si rompe un macchinario non te lo ricomprano subito in alcune situazioni alcune asle insomma non la vivono bene attualmente considerando che l'oculistica è molto costosa all'estero c'è una richiesta vastissima di oculisti addirittura questo qua è mail che mi arrivavano il profilo linkedin mi arrivavano puoi venire a lavorare da noi in francia dalla francia richiedono tantissimo gli oculisti anche al confine e mi arrivavano mail anche dall'inghilterra ovviamente ho deciso di rimanere in italia è tutto più difficile perché comunque ho colleghi che lavorando in francia sono diventati primari colleghi in inghilterra responsabili del ambulatorio di retina medica ma la stessa cosa si può fare anche in italia tranquillamente quindi perché no l'oculistica è una scelta validissima e con questo concluso grazie paolo per la interessantissima relazione ci sono delle domande stato tutto chiaro se non approfitto per fare una domanda io tanti amici che stanno facendo la specializzazione in oftalmologia anche in diversi centri uno dei problemi che mi raccontano è che spesso finiscono cioè rischiano di finire la specialità senza aver mai fatto una cataratta senza aver mai fatto vitrioreti una chirurgica quindi secondo te anche nella scelta poi della sedia di specialità conviene più andare in un centro magari ultra specialistico che fa la malattia specifica oppure magari in un centro un po più piccolo dove però tu puoi fare tutto già durante la specialità questa è difficile come domanda e potendo scegliere io andrei in un grande centro in una grande città dove c'è un'ampia casistica l'ampia casistica e la grande città probabilmente come vedo soprattutto a roma o milano permette di avere uno spettro di patologie molto ampia all'interno dell'ospedale e ciò permette anche di avere più ambulatori che si occupano di diversi settori poi è molto settoriale io ho colleghi che hanno fatto ad ancona soltanto ct specializzazione e hanno continuato a fare soltanto ct dopo dipende quello che ti piace fare a me piace fare un po tutto fatto terapia intensiva neonatale faccio pediatrico fatto veti opero la cataratta la retina faccio chirurgia refrattiva a volte ci si perde anche in questa vastità di cose però l'importante è che la coscienza che le fai bene quindi io non smontavo dalla guardia notte per fare ambulatorio e quindi quando facevo ambulatorio andavo alle 12 a farlo perché sapevo che arrivavano i pazienti del pronto soccorso che con patologia chirurgica e poi mettevo le cartelle da parte e me li portavo in sala operatoria per farmi calazzi o gli ipterigi cioè dipende un po senza però andavo a dare una mano quindi sempre nel rispetto degli altri e dipende come sei fatto dipende quello che vuoi fare e più cose fai e meglio è perché poi te le ritrovi cioè ora io ho un bacino d'utenza vastissimo vedo anche i bambini perché ho detto ma perché no perché non lo devo sapere ho colleghi che invece dicono no io la parte ortottica non la voglio sapere i bambini non li voglio vedere o quelli no io non voglio assolutamente operare quello un po ti restringe anche il tuo bacino d'utenza è quello che vedi cioè io mi annoio se faccio sempre la solita cosa mi piace spaziare e forse consiglierei una grande città grazie mille per la spiegazione è veramente interessante